buongiorno ragazze e benvenute in un nuovissimo vlog siamo per andare alla comunione di sofia che la sorellina di riccardo e siamo praticamente tutti pronti federico è bellissimo veramente uno metto con la cravattina la camicina bianca sono troppo contenta che le cosine di chiabi siano arrivate per tempo perché veramente ero terrorizzata l'idea di non sapere che cosa mettere cioè nel senso lui ne ha cosine classiche però gli iniziano ad andare tutte strette quindi non sarebbe stato bene ecco e poi ho messo questa qui che adesso vi mostro poi allo specchio che è una semplicissima maglia barra camicia una maglietta carinissima che sembra una camicetta con dei volant tutto qui sul davanti molto carina adesso ve la faccio vedere allo specchio con dei pantaloni neri sempre quindi sono tutte in black non so se si vede qualcosa perché contro luce però vedete che ci sono tutti questi volant davanti ed è nera sono tutta in nero con i pantaloni neri in questa maglietta carina nera e poi metterò appunto il tacchetto niente mi piace molto e niente ora mi finisco di preparare una magliettina di batman bianca quella che ho messo ieri io metto quella di superman ecco oggi viewed un quale ecco nonché autista folle della giornata è verde nonché non che godure a levarsi i tacchi che godure a levarsi i tacchi che male i piedi sono più abituata per fortuna stasera alla cena possiamo vestirci in maniera semplice meno elegante quindi via di all stars converse allora ragazzi vi sistemo qua voi non ci crederete allora i due fratelli stasera vogliono mettere entrambi una maglia dei supereroi questa qui di superman che ha ricchi era da stendere perché la lavatrice ha finito adesso quindi io gliela sto stirando sperando che si asciughi da bagnata perché loro devono mettere la maglia dei supereroi e niente spero si asciughi ma con il ferro secondo me è il metodo più veloce perché se la stendo adesso in un'ora tra un'ora arrivano a riprenderci non credo che ce la farei ce la farebbe ad asciugare con il phon anche una cosa infinita quindi proviamo così così nel frattempo io l'ho anche già stirata e gliela asciugo comunque mi sono divertita tantissimo oggi veramente alla alla crea la si è al cielo costa cresima la comunione sono veramente veramente divertita e stasera appunto torneremo usciremo di nuovo perché hanno organizzato anche una cena quindi insomma giornata in famiglia stasera penso che metterò un jeans una maglietta insomma adesso vedo che cosa trovo o al massimo tengo questa con un jeans e le converse quindi molto comoda per fortuna ha piovuto mentre eravamo in chiesa quindi non abbiamo preso acqua è andata bene e speriamo che vada così anche questa sera comunque in ogni caso siamo in macchina quindi siamo comunque salvi niente io finisco di stirare poi anche io mi metterò comoda e niente finisco di asciugare qua sperando che si asciughi altrimenti tra batman e tra batman e superman non so come finisce poi vado a finire a dopo non so se avete notato l'eleganza l'eleganza modello giuditta aspetta guardate che carino il mio amore quanto elegante manca solo la cravatta amore basta basta guardate a cambiare aspettava solo questo momento è per la maglietta invece ci stiamo lavorando sto asciugando ma siamo a buon punto no in fondo al cassetto è in fondo al cassetto ho messo questa molto semplice ovviamente caduto legge in bassogno o la parte giusta 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 la parte giusta